Gol vittoria, gol che vale anche il titolo di capocannoniere del girone. Si è chiuso in bellezza Lorenzo. Sì dai, venivamo da un momento un po' difficile, abbiamo avuto un po' un calo fisico che ci ha messo un po' in difficoltà a livello soprattutto mentale, anche perché insomma ci ha sfumato l'obiettivo domenica scorsa a Mestre e quindi insomma oggi ci tenavamo a chiudere per mantenere il sesto posto che penso che insomma ci meritavamo. Ecco dopo insomma il mio gol è una cosa in più, sono molto contento e basta, è la prima volta che metto il 2 davanti insomma e quindi sono molto felice. Mi ricordo il zerbato di tre anni fa, in Serie D c'era anche qualche dubbio perché ritornavi dopo qualche anno, poi hai trovato una continuità che è spaventosa, mi spieghi un po' cos'è successo? Beh insomma diciamo che di segreti non è che ce ne siano tanti e sicuramente adesso stando diciamo più vicino alla porta è anche un po' più facile alla fine buttarla dentro quindi diciamo che di segreti non ce ne sono tanti, poi dopo insomma sicuramente i miei gol sono sempre merito soprattutto dei miei compagni che mi permettono di mettermi nelle condizioni di farli ecco sicuramente quello. A chi dedichi questo questo traguardo poi tra meno di un mese, poco più di un mese praticamente è uno dei traguardi più importanti anche della tua vita Lorenzo? Sì che sicuramente alla mia futura moglie l'aria e niente insomma 25 giugno ci sposiamo e quindi non vedo l'ora di quel giorno ecco sicuramente dedico tutto a lei. L'ultima cosa Lorenzo bilancio di questa stagione, sesto posto alla fine vuol dire continuità dopo il quinto dell'anno scorso e anche con quale spirito ci affacciamo verso il futuro? Diciamo che a differenza dell'anno scorso forse siamo finiti forse un po' incalando a differenza dell'anno scorso che siamo finiti proprio con un rush finale incredibile e quindi la percezione è che c'è un po' di amaro in bocca però alla fine insomma se guardiamo la classifica siamo lì e non so oggi cosa ha fatto il campo d'asco ma penso vinto comunque insomma siamo lì appena sotto e quindi io penso che l'anno prossimo siamo pronti per ripetere queste due annate ecco.